e benvenuti benvenuti monarchici assoluti nuovo video del monarca il napoli può vincere lo scudetto possono insidiare noi campioni in carica in tanti me lo scrivete sotto i commenti dei video nelle mie live sui direct di instagram quindi è arrivato il momento di dirvi la mia nelle live l'ho detto molte volte ovviamente i pensieri cambiano e sono dettati anche da quello che dice il campo non avere un'idea iniziale poi puoi cambiarla a seconda di quello che dice il campo quindi oggi ci chiediamo questo e cerchiamo di darci una risposta insieme prima di parlare di tutto iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio video o di quando faccio le live live che faremo oggi doppio appuntamento alle 18 e 30 seguiremo milan bruges radio cronaca di champions league e alle 21 poi la juventus contro lo stoccarda quindi non mancate vi aspetto alle mie live oltre tutto ripeto iscrivetevi al canale fatelo per i dei dell'algoritmo di youtube allora partiamo dai numeri che nel calcio difficilmente mentono quindi napoli guida la classifica 19 punti dopo ci siamo noi a 17 guardiamo i numeri gol fatti loro 15 noi 17 gol subiti loro 5 noi 9 differenza reti sta un 10 contro 8 loro hanno fatto 6 vittorie noi 5 e quindi niente ragazzi hanno fatto una vittoria in più di noi noi ragazzi allora leggendo bene questi numeri noi abbiamo preso più gol quasi il doppio di loro e in generale prendiamo più gol dell'anno scorso e quindi ragazzi può iniziare a essere un problema sui gol fatti siamo lì però dobbiamo anche vedere perché una cosa importante chi ha sfidato l'inter e chi ha sfidato il napoli noi abbiamo sfidato la roma e loro l'ampoli noi abbiamo sfidato il torino e loro il como andiamo sulle altre partite loro hanno sfidato il monza e noi l'udinese noi abbiamo sfidato il milan e loro la juventus andiamo avanti noi abbiamo sfidato il monza loro il cagliari noi abbiamo sfidato il monza e loro il cagliari abbiamo sfidato abbiamo sfidato il parma e noi l'atalanta poi loro hanno sfidato il bologna e noi il lecce noi abbiamo loro hanno sfidato il verona e noi il genoa ragazzi così a occhio mi sembra che l'unica squadra come dire big che hanno sfidato sia la juventus una juventus fra l'altro che è lontanissima dalla juventus che dovrebbe lottare per il campionato anche se i punti della classifica dicono questo dicono che sia lì è solo un punto dietro a noi ma ripeto il gioco dell'eventus latida questi fanno uno due ti rimporta tre ti rimporta in cinque sei partite una una roba oscena imbarazzante anche l'ultima partita con la Lazio vincono in maniera fortunosa con un autogol all'ottantacinquesimo dopo aver giocato un'ora eh più di un'ora in undici contro dieci in casa noi abbiamo sfidato l'Atalanta che abbiamo rumbato concedetemi il termine abbiamo passato una bella rumba all'Atalanta quattro a zero anche il Milan con cui abbiamo perso per carità e anche la Roma diciamo big per dire big diciamo le squadre che non sono proprio da squadrette ok e a mio avviso anche col Torino non sarà così semplice per gli altri quindi partiamo da questo presupposto noi abbiamo scontrato fin qui squadre più forti di loro tantomeno sicuramente una più forte l'abbiamo beccato loro non hanno le coppe voi mi direte e senza coppe possono essere avvantaggiati vero verissimo ma possono nascere anche di sidi interni perché le coppie ti aiutano a far giocare gente magari forte che tu è in panchina se non hai coppe no esempio loro continuano a usare Davide Neres loro Conte continua a usare Davide Neres col Contagocce lo fa entrare gli ultimi venti minuti al posto di Politano questa è una situazione che potenzialmente può diventare una polveriera e spaccare lo spogliatoio perché questo dice io arrivo da una squadra di livello internazionale e qui faccio panchina appolitano ok quindi ragazzi io non so Davide Neres e il suo agente quanto possano essere contenti di questo ragazzi voglio dire questo arriva dal Benfica che a livello internazionale è una squadra molto più competitiva del Napoli anche ha militato anche all'Ajax stessa cosa McTominay Gilmour adesso McTominay sta giocando però Gilmour non gioca e Gilmour ragazzi anche lì è un giocatore di uno status in teoria superiore e quindi questo vi può creare spaccature non parliamo dell'attacco Raspadori ragazzi Raspadori non gioca mai Simeone non gioca mai è gente che entra gli ultimi dieci minuti quindi tutte queste situazioni a uno come Conte che in realtà è proprio incapace di gestire lo spogliatoio è proprio il contrario di quello che dicono ok perché lui come lo gestisce? punendo la gente e rovinando tutto vedi con noi il caso Eriksen dove lo umiliava facendo l'entrata gli ultimi quattro minuti ok se Gilmour giocava in Premier nel Brighton non so quanto sia contento di venire a fare la panchina a Napoli ok? e ripeto tutti gli altri Raspadori hanno la situazione Cavara Schelia che non rinnova in difesa se viene un raffreddore a buongiorno loro tornano come coppia centrale con Rachman e Juan Jesus probabilmente quindi attenzione è vero che non hanno le coppe ma c'è questo discorso di mezzo noi possiamo perdere punti perché abbiamo le coppe ma pensate con già tre partite di due partite di Champions in mezzo e una l'hai fatta col Manchester City la squadra più forte del mondo sei lì a due punti e ci deve essere a breve lo sconto diretto e l'Inter non sta giocando bene l'Inter quest'anno ha giocato bene con City e con Atalanta finito le altre nostre prestazioni non sono di livello e siamo lì quindi cosa vi deve far sperare? immaginate quando torneremo a giocare bene quando i nostri top torneranno davvero in forma parlo di Laudaro parlo di Sciala parlo di Niki parlo di Barella gente che ancora non abbiamo visto top forma assolutamente lo stesso Pavard quindi contando che poi hanno pure Conte che è uno che ragazzi lo vedete il Napoli con l'Empoli dovevano andare sotto 2 a 0 nel primo tempo me l'ha scritto giusto ieri sotto il video un napoletano un tifoso napoletano col Cagliari li ha salvati Meret hanno preso pali traverse dovevano andare sotto anche col Cagliari c'è potenzialmente una squadra che può perdere con chiunque come è successo con il Verona da cui hanno preso 3 pappine quindi io non sono minimamente preoccupato del Napoli ma proprio meno di zero meno di zero voglio sapere se lo siete voi quindi anzitutto se vi è piaciuto quello che vi ho detto in questo video mettete like al video like 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 e subito dopo lo sapete a memoria iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live live che ripeto oggi faremo doppio appuntamento 18 e 30 live reaction di Milan Bruges e subito dopo alle 21 faremo live eventus live reaction sempre di Champions con lo Staccarda quindi vi aspetto vi aspetto vi aspetto nelle live venite ma vi aspetto nei commenti che sapete che leggo sempre leggo tutti perché portano valore al video quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Napoli secondo voi può vincere io vi ho detto la mia voglio sapere la vostra assolutamente mi raccomando detto questo non resta che salutarci e dunque il nostro solito salute latino vide te mox forza inter